Salve amici ludici ed eccoci ad un nuovo discatolamento che stavolta riguarda una grande e bella novità per l'italico idioma della Genos Game, stiamo parlando di Spirit Island, un gioco cooperativo che ci vedrà combattere contro i colonizzatori, quindi stavolta non saremo noi a colonizzare qualcosa ma dovremo evitare che venga colonizzato, vabbè, avete capito, colonizzata, mi ero prima un po' aiutato per cercare di togliere un po' più velocemente il cellophane ma mi da sempre del filo da torcere, questa è la scatola che ha una dimensione di circa 29x29 cm con un'altezza del bordo di circa 8, questo è il retro abbastanza essenziale dove ci sono riassunte le indicazioni quindi da 1 a 4 giocatori, 90-120 minuti durata ed è 14 anni in su di età, e andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola, partiamo dal regolamento che vi dico già sembra un album di figurine, sembra la copertina dell'album di figurine della Panini, traslucido, bello grande, bello grande, una qualità grafica delle immagini davvero ottima devo dire, sì sì, sembra, sembra fatto bene, che bella questa cartina dell'Europa, sono, ah, 30 pagine, c'è anche un glossario, quindi vuol dire che a dietro c'è il riepilogo, non sarà proprio una vera e propria passeggiata, allora questi sono i pezzi delle planche di gioco, o alcuni dei pezzi, sono uno, due, tre, quattro, eccoli qua, fronte e retro, poi abbiamo fustelle, tessera alta immigrazione, devastare, costruire, ah, che belli inserti, aspettate che metto questa che fa molta più scena, che bellissimi inserti, comodi, quindi ci sono già due inserti in plastica, con dischetti segnalini di legno, i segnalini di legno che sembrano di funghetti che dovrebbero rappresentare, credo, non so se i coloni o gli spiriti, sinceramente non lo so, sono appunto funghetti di legno, poi abbiamo, dopo il legno, plastica, dovrebbero essere questi gli insediamenti, vediamone uno, si vede, si vede, si vede, si vede, si vede, si vede, non si vede, vabbè, comunque una casetta, fidatevi, sono casette più grandi, poi ci sono questi altri segnalini che non ho proprio la più fa l'idea di che cosa rappresentino, saranno sempre degli insediamenti, non lo so, poi ci sono questi che dovrebbero essere i segnalini degli spiriti, no buono, plastica piegata, purtroppo, o sono i conquistadores, non lo so, saranno i colonizzatori, quasi sicuramente, un po' deluso da questi perché alcuni sono evidentemente piegati, poi ci sono le ziplock, sacrosante e utili, poi ci sono, ah che belle, queste plance sono resistentissime, bellissime, sono le plance spirito, credo, fronte e retro, la qualità delle plance è davvero notevole, notevole, sono spesse e molto molto belle, questo è quello più pubblicizzato, che ho visto in rete tra gli spiriti, poi ci sono altre plancettine, questo per segnare il livello di terrore, un'altra plancia, questa mi sembra dove si mettano le carte, sì, se non ricordo male, poi ci sono, penso, delle carte di epilogo, che non apro perché non è necessario, però guardate che bei divisori, bellissimi, già all'interno, poi ci sono le carte, isola degradata, queste sono le carte spirito, queste penso per il livello di terrore, se non ho visto male, allora cerchiamo di aprirne almeno uno, cercherò di essere un po' più veloce rispetto all'altra volta, vogliate perdonarmi, avrei dovuto mettere un cartello torno subito, ma purtroppo non ce l'ho, ecco qua, ce l'ho fatta, le carte sono davvero di buona qualità, sembrano, vedete, controluce telate, quindi non credo che non vadano nemmeno troppo imbustate, queste sono le carte spirito, sembrano abbastanza chiare le iconografie e le descrizioni, davvero davvero qualità dei materiali, a parte i segnalini plastica dei conquistadores, è tutto di ottima qualità, non apro l'altro mazzetto perché sennò il video durerà 25 minuti, e questo era Spirit Island.